Mattia è un ragazzo autistico di 19 anni che frequenta l'Iceo Chiabrera Martini di Savona. La sua classe ha organizzato una gita di sei giorni a Vienna e a lui sembrava impossibile partecipare perché non aveva mai neanche dormito una notte fuori casa. I compagni però erano irremovibili, Mattia doveva partecipare a tutti i costi. Si sono dati da fare, hanno trovato le soluzioni, chiesto aiuto alla scuola e sarebbero stati vicini al loro compagno e l'avrebbero aiutato in tutto. I professori li hanno appoggiati e anche l'insegnante di sostegno era disponibile a stare con lui 24 ore su 24 per tutti i sei giorni. A quel punto con tutte le soluzioni e le risposte in mano hanno chiesto il permesso alla mamma di Mattia che si è subito commossa. Avevo paura, era un paese straniero e sei giorni fuori casa erano muri insormontabili per me ma non volevo negare a Mattia una gioia così grande. Genitore, scuola e compagni tutti erano d'accordo e insieme hanno comunicato la notizia a Mattia che non poteva crederci, ha abbracciato tutti e non smetteva di sorridere. La cosa migliore, raccontano i compagni, è stata vedere gli occhi di Mattia illuminarsi perché era davvero felice.